Inquietanti episodi di pomeriggio a Vittoria, quattro colpi di pistola all'indirizzo di un centro ricreativo di nordafricani sono stati sparati nel pomeriggio, in tono a Re 16, nella piazza Manin, dove, come è noto, vi è un alto numero di nordafricani con attività commerciale e case di locazione. I carabinieri intervenuti stanno adesso ascoltando in queste ore alcuni testimoni. Pare che i colpi siano stati sparati da un'auto in velocità, uno a Renault Megane, con a bordo due persone. Sempre carabinieri che stanno verificando se si è trattato di un avvertimento oppure c'era il tentativo di colpire qualcuno. Preoccupazione anche dagli stessi extracomunitari presenti a quell'ora in piazza. Alcuni sono subito resi disponibili con le forze dell'ordine, dando indicazioni sul mezzo e anche segnalando ai carabinieri i punti dove fossero finiti i proiettili. Le indagini quindi proseguono, anche se non appare semplice arrivare agli autori che hanno interrotto il tranquillo tran-tran di piazza Manin.